Gina Lollobrigida, mi sembri una fata turchina. Ma Lello, io sono tutta in rosa questa sera. Si va bene, ma i telespettatori intanto vedono bianco, quindi... No, ma io ti dicevo, una fata turchina, come quella delle fiabe. Senti, Gina, hai fatto un film, mi pare, in Spagna, un western. Sì, il mio primo western. Ecco, il titolo non ho capito, però. Beh, io credo... comincio a non capirci neanch'io, perché il titolo in inglese è The Bad Man's River. E i cattivi uomini del fiume. Quindi in Italia l'hanno tradotto una volta The Bad, hanno tradotto Red, quindi sono diventati gli uomini rossi del fiume. Poi un'altra volta hanno tradotto Bed, Letto. Letto, gli uomini nel letto del fiume. Lasciamo stare. Dunque siete qui per un quiz, no? Ve l'ha spiegato anche Alberto Lupo, un quiz cinematografico. Su questo schermo alle nostre spalle appariranno dei film, degli spezzoli di film vecchi che abbiamo visto tutti, con degli attori... Paura, cominciamo presto. Dunque, con degli attori molto noti, che però sono truccati, molto truccati perché in termini sono personaggi un po' speciali. Voi dovete riconoscere gli attori, ogni attore che riconoscete, premendo il pulsante, 200 mila lire a testa, non è male la cosa. Poi sentite anche il titolo del film, va bene. Allora adesso vi accomodate sulle poltrone. Sì. Vi accomodate sulle poltrone. Avete i pulsanti, ecco, prendete i pulsanti. Mamma mia. Qui si rischia... Dunque...